Dopo la tappa d'apertura al Museo del Balì di Coglie al Metauro, sabato 2 luglio, Conterranea arriva a Monbaroccio nel secondo capitolo del format realizzato dai comuni e dalle proloco dell'areale della DOP, ovvero Cartoceto, Monbaroccio, Coglie al Metauro e Fano. Cultura, musica e sapori, olio su tutti, si uniscono in un'esperienza che sabato arriva a Palazzo Guido Baldo del Monte e che viene presentata così dal sindaco Emanuele Petrucci. Grazie. 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 Grazie.